Angelì, ma fammi che non capi una cosa, tu che stai dentro al meccanismo, no? Ma se l'acqua da queste parti non c'è sta, ma che si costruiscono questi? Questi si guidano a costruire, ma poi dopo quando ci abiteranno delle persone, ma che fanno? Non si lavano, non vanno al bagno? Angelì, chiedi un po', tu che ormai stai nel sistema, chiedi all'ufficio tecnico, ma in base a che cosa si rilasciano queste licenze di costruzione, se questa è una zona a carenza idrica?